Tema caldissimo quello del video di oggi, ci avete fatto un miliardo di domande, nessuno ha le risposte e quindi forse è il caso di fare un video di pochi minuti. Il tema lo vedete sopra, recessione, bitcoin e cripto. La prima domanda è, arriverà questa benedetta recessione? La seconda domanda, che è quella che vi interessa di più, è, nel caso di recessione, cosa succederà a bitcoin e cripto? Risponderemo ad entrambe le domande in questo video se non ti sei ancora iscritto, qui sotto. Sottoscrivi e soprattutto attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Arriva questa benedetta recessione, ne stanno parlando tutti, c'è chi tira fuori questo grafico, chi quell'altro. Ci sono i soliti bastian contrari che vedono che tutto è finito, ma il problema è uno, in realtà darsi una risposta è molto difficile, anche se. Proveremo a farlo all'interno di questo brevissimo video. Se non sai che cos'è la recessione, in termini tecnici è il calo del prodotto interno lordo, quindi della produzione economica totale di un paese per due periodi consecutivi. In senso comune è in realtà un'economia che va male e decresce. È qualcosa che in genere non piace alle borse, perché ovviamente se l'economia va male le aziende vanno male, ma per bitcoin e cripto il discorso potrebbe essere molto più complicato. Io passerei subito ai grafici, perché in realtà siete molto molto bravi e qualcuno ce l'avete mandato voi dicendoci ma è vero che questo grafico dice che partiamo subito e vediamo che cosa c'è da sapere al riguardo. Primo grafico, questa linea che vedete in blu è la linea dei tassi di interessi effettivi negli Stati Uniti. Queste barre grigie che vedete qui sono i periodi di recessione. Quindi in tutto il periodo grigio che vedete qui c'è stata tecnicamente una recessione, quindi una decrescita dell'economia. Che cosa segnala questo grafico? O meglio, che cosa segnala secondo qualcuno? Segnala che dove ci sono stati poi dei tagli ai tassi di interesse, no qui dove la curva scende, è sempre seguita una recessione. Adesso questo grafico parte dal 1955, quando le banche centrali sapevano molto meno di questi processi e quindi possiamo già a nostro avviso accorciarlo. Vediamo qui, dall'85 partiamo più o meno, anche se ancora una volta è dagli anni 2000 che poi le banche centrali sono diventate molto più proattive nel cercare di impedire le recessioni giocando in anticipo. Allora, periodo fino a settembre, ottobre, novembre 2000, calo improvviso dei tassi di interesse, poco dopo, sono passati circa 3 mesi, recessione. Torniamo al 2007, calo dei tassi, dal 2007 fino al 2007 siamo tecnicamente in recessione e ci rimarremo per circa 6-8 mesi. Poi c'è il lungo periodo nel quale il grosso di voi si sarà afficciato ai mercati di tassi praticamente a zero. Di nuovo, 2019, tassi leggermente più alti, taglio improvviso, anche se questa qui del 2019 va ricordato che è stata una recessione in larga parte indotta dalla pandemia e quindi da criteri non strettamente economici. Adesso i data point, come dicono quelli bravi, sono pochi, sono 1, 2, 3, 4. L'ultimo va eliminato. In realtà, per tracciare questa equivalenza, i tassi scendono e si portano dietro alla recessione, è un po' difficile. È il solito problema dell'uovo della gallina. La banca centrale taglia perché vede la recessione o la recessione arriva perché si inizia a tagliare troppo tardi. Darsi una risposta è molto difficile e, almeno a mio avviso, questo grafico non dimostra assolutamente nulla. In realtà, il progetto di Jerome Powell è quello di iniziare a tagliare prima che arrivi la recessione. Ci sono però degli altri dati che sembrerebbero sconfessare, cioè dire, Powell, guarda che ormai è troppo tardi e la recessione arriverà. Grafico, altrettanto interessante. Tasso di disoccupazione è ancora una volta in blu. Adesso voi non vedete la parte sotto del grafico. E in blu i periodi di recessione. Adesso, qui nel grafico non si vedono gli ultimi andamenti. In realtà, ci troviamo come se ci trovassimo qui, come vedete, nel momento attuale, perché la disoccupazione ha cominciato a crescere, seppur molto lentamente negli Stati Uniti. La seconda teoria è che in realtà la disoccupazione comincia a crescere prima che l'economia registri una recessione vera e propria. E quindi questo sarebbe un secondo segnale a favore di chi crede che arriverà una recessione. Anche qui però i data point sono in realtà purtroppo molto pochi. E arriviamo ad un periodo economico di alta inflazione, di problemi alla supply chain, di problemi dell'offerta che non avevamo mai affrontato in tempi moderni. Quindi rimane molto molto difficile prendere questi dati e tracciare, fare l'addizione. Ah, c'è questo, questo, questo e questo, e allora siamo in recessione. Però questi due segnali non sono dei migliori. Terza tabella che utilizzano molto quelli bravi. Si tratta della tabella della curva dei rendimenti. In realtà qui c'è una sottrazione tra il rendimento degli asset decennali e quello dei bond a due anni. Quando questa curva si inverte, cioè come qua, adesso mi sono allargato un po' troppo verso il passato, quando la curva scende sotto lo zero, vuol dire che il rendimento dei bond a due anni è superiore a quello di quegli a dieci anni. In una situazione abbastanza anomala, perché tendenzialmente i titoli emessi dalla stessa entità che hanno una durata più lunga dovrebbero pagare qualcosina di più. E quando questa situazione anomala si è verificata, c'è stata poi una recessione nel 2000. Ed è vero, è successo nel 2007, poi dopo un po' è arrivata la recessione. E adesso, dato che c'è stato questo periodo qui, di curva, ancora una volta invertita, che vuol dire di curva sotto lo zero, c'è chi dice, guardate, adesso torneremo sopra, cosa che è successa ieri, tra le altre cose, e tra un po' ci sarà la recessione, sarebbe il terzo segnale su tre dell'arrivo di una recessione. C'è un altro dato che ha diffuso una newsletter, che io leggo spesso perché è fatta molto bene, e che mette a confronto qui l'andamento del prodotto interalordo con il domestic income. Sono, come vedete, due dati che procedono molto, molto, molto vicini. E' che quando c'è stato un discostamento importante prima dell'ultima grande recessione, derivanti da fattori di ciclo esclusivi, che cosa è successo qui? E' successo in realtà che c'è una discrepanza abbastanza importante tra i due dati, che è circa del 3%, e quindi si chiede, la newsletter che è The Cobacy Letter, poi su Telegram vi lascio il link, si chiede, non è che dovremmo, come spesso accade, rivedere il prodotto interalordo più avanti, succede anche a distanza di rado, e togliere questo 3%, perché in realtà il GDI è sempre una misura abbastanza precisa di quello che sarà il GDP o PIL. Togliendo il 3% al PIL saremmo già tecnicamente, se non in recessione giù di lì, perché l'ultimo dato sul PIL americano è stato più 3%, dato precedente è molto al di sotto del 3%, quindi portando la linea blu, che è quella del PIL, su quella rossa, saremmo già tecnicamente in recessione. Anche questo è un discorso che trovo molto, molto interessante, forse più interessante degli altri, che stanno facendo tutti, ma anche qui di conclusioni non ne abbiamo. L'ultimo dato che volevo farvi vedere è la correlazione tra Bitcoin, e da un lato in verde avete lo Standard & Poor's 500, che è un indice un pochino più grande, che raccoglie le prime 500 aziende per capitalizzazione dei Stati Uniti, e l'altro è il Nasdaq Composite, che invece è concentrato sul Nasdaq principalmente società tech. Adesso capire questo grafico è abbastanza semplice, 1 correlazione piena, meno 1 correlazione inversa, quindi se uno sale Bitcoin scende e viceversa, e già da questo, che c'è uno storico che non è grandissimo, dal 2019, vediamo come in realtà questa correlazione sia tutto fuorché lineare. Tendenzialmente i periodi in cui la correlazione è positiva rispetto a quelli in cui la correlazione è negativa, sono di più, assolutamente sì, è facile vederlo dal grafico, tuttavia ci sono due questioni da analizzare anche in relazione a questo grafico, che però ripeto è molto interessante. La prima è che abbiamo un insieme di dati purtroppo molto ristratto. The Block ce l'offre dal 2019, ma è forse l'anno giusto per iniziare a considerare Bitcoin come un asset finanziario pieno. Il secondo è che Bitcoin, tolto il periodo del Covid, che comunque è stata una recessione abbastanza particolare per fattori esogeni, Bitcoin non ha mai affrontato una recessione vera e propria, quindi non sappiamo che tipo di comportamento potrà avere. Voi direte, ah ma mi hai lasciato con più domande di quelle che avevo all'inizio. Forse sì, però potremmo concludere almeno dai 4-5 grafici che abbiamo visto, che in realtà sì, di segnali che sembrerebbero indicare la possibilità che arrivi una recessione, ce ne sono. La grande incognita rimane il comportamento di Bitcoin durante una recessione. Bitcoin in alcuni momenti di crisi, come il fallimento di SVB, la Silicon Valley Bank che sembrava potesse trascinarsi dietro, tutto il settore bancario, in realtà si è comportato abbastanza bene. Durante il Covid è calato invece con gli asset di risco, salvo poi rimbalzare. si creano due tipi di situazioni, c'è innanzitutto ciò che c'è, c'è la crisi, quindi le aziende producono meno, vendono meno, incassano meno. Dall'altro lato però col taglio dei tassi arriva tanta liquidità che cercherà di accasarsi. Io se dovessi esprimermi oggi non avrei idea del comportamento di Bitcoin, certamente se dovesse esserci un altro lunedì nero come quello del 5 agosto abbiamo visto che cosa succede. a Bitcoin e Cripto. Non sono neanche sicuro però che arrivi questa recensione di enormi proporzioni. Jerome Powell a Jackson Hole è sembrato un po' preoccupato quando ha detto che no guardate ma effettivamente ci sta il mercato del lavoro che sta andando maluccio. Tuttavia, la certezza per adesso non ce l'ha nessuna, è il PIL, ammesso che non si debba correggere come abbiamo visto qui, perché questo grafico è molto molto interessante, ammesso che non si debba correggere siamo ancora con un PIL che in America cresce del 3%, pensare di parlare di recessione è un po' complicato. Rimane il problema che calcolare i dati dell'economia reale è complicatissimo. I più cinici diranno che il problema è che siamo davanti a un anno elettorale, dall'altro lo Youth Bureau of Economic Analysis ha una certa remutazione. Adesso che possano manipolare volontariamente i dati del 3% è oggettivamente fuori di testa. Aggiungo, prima che ci saldiamo perché ci siamo allungati troppo, in realtà anche i dati sul mercato del lavoro dei mesi precedenti sono stati rivisti fortemente al ribasso, il che potrebbe voler dire che in realtà in recessione già ci siamo e che in realtà è il numeretto che viene inviato dagli uffici di statistica che non tiene conto di questo. Ci vediamo, continueremo a seguire questa vicenda perché è della massima importanza. Voi iscrivetevi al canale qui sotto e io non posso che mandarvi un carissimo saluto.